Come è successo? Trattative rovente in linea con le temperature del periodo per il calcio nostrano. In casa Napoli spunta l'ipotesi Galatasaray per Inler. Continuano intanto i sondaggi per due difensori in forza al Torino. Si tratta di Matteo Darmian, la cui valutazione sfiora ai 20 milioni di euro, e di Nicola Maximovic, sul quale ha messo gli occhi anche il Milan. È iniziata una settimana importante invece per la Salernitana. Diversi gli incontri in agenda per il direttore sportivo Angelo Fabiani. Domani è fissato un appuntamento con il procuratore di Jefferson, Mariano Grimaldi, per chiudere la trattativa avviata da una settimana che porterebbe in granata all'attaccante brasiliano. Trovata già l'intesa di Massima, oltre all'attacco e alla questione Jefferson, che sembra in via di definizione, attenzione puntata sul capitolo portiere dopo l'addio di Gori passato al Benevento. L'ingaggio del giovane Stracoscia sarà presto ufficiale. Intanto, mercoledì prossimo, prenderà ufficialmente il via la nuova stagione. Nel pomeriggio i Granada si raduneranno in città, mentre a partire da giovedì si sottoporranno una tre giorni di visite mediche. Nel pomeriggio di sabato la partenza alla volta del ritiro di Cascia, dove la Salernitana, già nella giornata di domenica, svolgerà il primo allenamento. In casa Paganese il direttore generale Deboli è impegnato sul fronte tecnico. Attenzione puntata sulla questione allenatore. Contatti febbrili tra la società Giannuca Grassadonia, che sarebbe pronta a risiedersi sulla panchina degli azzurro stellati. Ed il tecnico non potrebbe essere l'unico ritorno di fiamma per Pagani. Si parla anche del centrocampista Elio Nigro. Per la società Città di Nocera è il giorno delle presentazioni. A mostrarsi ufficialmente alla stampa l'allenatore Pasquale Sposito, il suo vice Felice Scotto, il collaboratore tecnico Martino Coppola. Preparatore dei portieri sarà Medeo Petrazzuolo, già in passato in rosso-nero. Giuseppe Carrotta si occuperà invece della preparazione atletica dei giocatori, mentre il neo responsabile del settore giovanile scouting sarà Borrello. Intanto, proprio dall'AS di Città di Nocera a 1910, sono arrivate le congratulazioni alle società vincenti della Coppa Disciplina dei rispettivi campionati. Sul podio anche la Nuceria per la serie C1 femminile di calcio A5.